Nel Giochi Olimpici, il rompe la modernità, inizia il caso Kellner, con l'edificio delle poste. La cittadina storica di Cortina si adegua alla modernità dell'epoca. Lo aveva già fatto negli anni austriaci, quando da Agreste divenne Montana, in stile Liberti e Grandotel. Lo fa una seconda volta. Certo, oggi sembra che l'intervento di allora stoni. Allora si credeva alla virtù assoluta del moderno. Oggi abbiamo dei dubbi sulla questione e l'architettura attuale segue strade ben diverse. Allora, che pensare dell'edificio delle poste costruito da Kellner e che pensare dello stesso architetto Edoardo Kellner? Edoardo Kellner è un triestino che nasce cent'anni fa nel 1909, figlio di un pittore di insegni e che con gli anni diventa arrendatore di negozi. Lavora col padre e poi se ne va a studiare a Vienna alla scuola di arti e decorative. Studia poi architettura a Venezia durante la seconda guerra, finisce sotto le armi e si trova Cortina dopo l'8 settembre. Diventa uno specialista dell'architettura di montagna quando inizia la rinascita postbellica. Molto interessante la mostra che gli hanno dedicato a Cortina, perché apre sostanzialmente la questione della radice. Questa è una rappresentazione di alcuni pezzi della sua casa. Il disegno che rappresenta i suoi interni e il modellino della sua casa. Siamo negli anni 50 del ventesimo secolo, mezzo secolo fa. Se noi riguardiamo oggi la casa e ce la immaginiamo posta in un ambiente montano, ci sembra in un qualche modo distonica o comunque ci appare come una cosa per un certo verso obsoleta. Se guardo invece l'asdraio, la poltroncina di casa, oppure se guardo il tappeto di casa, ci sembrano totalmente contemporanei. Qui si apre tutta la questione, il rapporto fra l'architettura moderna e il design generato per l'architettura moderna e insieme all'architettura moderna. Il design non è invecchiato, le case ci danno l'impressione di esserlo. Esempio eccellente, appartamenti in condominio, progetto, modello e edificato, esistente a Cortina oggi. Se noi guardiamo il modellino e ce lo immaginiamo su un laghetto con un fondo di bosco, in un'area intatta ci accorgiamo che è un intervento di architettura che modella il paesaggio. Se lo immaginiamo in Cortina, dove possiamo presupporre che sarebbe utile avere un radicamento storico, in un qualche modo genera una distonia, la stessa distonia che genera l'edificio delle poste. Prendiamo i mobili, questo gruppo di sgabelli che riesce a comporsi un po' come un gioco e ha l'immagine di una macchina da allora, come se fossero possibili movimenti rotatori di uno sgabello sull'altro, è geniale e ci appare ancora oggi perfettamente contemporaneo. sedie moderne che riprendono la vecchia tradizione germanica dei piedi infilati nella seduta, infatti si vede qui il loro punto di inserimento, gradevolissime. Sopra tavolo basso, ripiegato, perché se si aprono le gambe in là diventa un lunghissimo tavolo da pranzo, oggetti dove la tradizione viene quasi cancellata, comunque viene radicalmente metabolizzata e dove si immagina una modernità totalmente vivibile con i materiali di sempre. Si dà già qua metà della risposta alla questione, il legno è invecchiato senza vergogna perché nasce per invecchiare. I cementi armati, ai quali si credeva come dato perenne, si sono invece lasciati distruggere dal tempo. La differenza fra design, interni e architettura sta nelle due diverse velocità di obsolescenza, o meglio ancora nella capacità di assumere patine. E l'altra differenza sta in questo parametro curioso, cioè nel concetto stesso di modernità e di contemporaneità. Per chi ha studiato in Germania allora la contemporaneità si chiama zeitgenosigkeit, cioè essere compagni del proprio tempo e essere convinti che quel tempo riparte da zero e inventerà un futuro che deve rinunciare al passato. Lui, al moderno e inteso come contemporaneo assoluto, ci crede esattamente come ci crede Walter Cropius, Miss Van der Rohe e i suoi colleghi del Nord. La risposta la dà questo plastico. Questo tipo di concetto della contemporaneità prevede il totalitarismo come scelta politica. Inventa il paesaggio ex novo. Questo è il progetto del villaggio voluto ex novo a Borca di Cadore. Si chiama Corte di Cadore, in omaggio a Corte Maggiore, il luogo di rinascita dell'Agip e fu voluto da Enrico Mattei. Eccoli qua, gli spazi comuni mai realizzati. La chiesa invece che fu edificata, l'albergo e le case singole che sono tuttora in uso. Si tratta di un progetto che a differenza delle poste di cortina nasce a tavola rasa. Non si deve confrontare con il passato, pensa solo al suo inserimento nella natura e ci riesce perfettamente bene. È trascorso mezzo secolo da allora. Si cammina fra i sentieri che si sono inseriti nella natura e si scopre un piccolo miracolo progettuale che non offende l'ambiente, anzi lo esalta. Ecco la piazza dinanzi alla chiesa, ormai con la sua patina storica. Sulla piazza una piccola area coperta realizzata genialmente mescolando legno e cemento armato, nonché metalli. Formidabile di qualità. Con quel gusto del disegno che allora regna nell'area veneta e di cui scarpa è un altro esempio eccellente. E qui arrivo allo statuone in onore ad Enrico Mattei, un'ottima scultura firmata da Francesco Messina quando era al massimo della notorietà, un grande busto per un grande uomo. L'uomo che lo Spiegel definì allora l'italiano più potente dopo Cesare Augusto, però l'uomo che inventò qua una sorta di utopia sociale incredibilmente interessante. Enrico Mattei rimarrà nel patrimonio dei grandi italiani, diciamo pure così, non invecchierà, ne nascono uno, due, ogni due secoli secondo me. Mattei, il capo partigiano democristiano che sfilò fra i sei capi del Comitato di Liberazione Nazionale dopo il 25 aprile a Milano. Responsabile degli approvvigionamenti durante la resistenza, Merzabora li affida già il 28 di aprile, tre giorni dopo la caduta del regime, il compito di smantellare un carrozzone di una volta, l'Agip, l'ente del petrolio. Quello che a sua volta controllava la Snam, il sistema di distribuzione del gas. Invece di smantellare, scava, difende gli interessi del paese e dagli americani che se lo vorrebbero pappare. Riesce poi con mille sotterfusi a convincere il governo a tenere l'azienda in vita. Ricupera l'ingegner Zammati, responsabile negli anni del fascismo e da lui impara tutti i trucchi della trivelazione. Mentre Mattei aveva questo vantaggio che aveva una grande comunicativa con un mondo che avevamo dell'azione, perché un mondo proveniva dall'azione, ma allo stesso tempo però aveva delle idee e queste idee facevano premio su un certo squallore che in giro c'era. Mattei si imponeva non per la questione di età, ma perché trasmetteva il significato di quello a cui si riferiva, dimostrando di avere una profonda meditazione, di avere delle convinzioni. La maggior parte di noi parliamo delle volte, forse i tre quarti delle parole diciamo che sono inutili. Mattei economizzava anche le parole, sui discorsi erano estremamente concreti, quello che ha fatto lo sappiamo tutti. È protetto da Ezio Vanoni, il ministro delle finanze e poi del bilancio dai primi governi dei Gasperi e quando Vanoni muore di infarto in Senato nel 1956, Mattei è ormai solidamente a capo dei veni. Ha fondato con Gaetano Baldacci, il quotidiano e il giorno, è protagonista delle fonti di energia, cioè del petrolio e del gas e sta già pensando al nucleare. Diceva a Valletta, che allora dirigeva la Fiat, se in questo paese sappiamo fare le automobili, dobbiamo imparare anche a fare la benzina. Rimane cosciente della fragilità della nostra situazione e inizia un piano di conquista e di simpatia all'interno del Mediterraneo, Marocco e Algeria. Io ne ho un ricordo, posso poi dire, quando Maria Vanoni anche raccontava, quel giorno stesso lui venne a trovare e mi disse guarda io sono un cane e ho bisogno di un padrone, il mio padrone è morto e diventare il mio padrone, il testuale. Io gli disse guarda io non ho mai avuto esperienza dei cani, da bambino avevo un gatto, tu però puoi star sicuro che qualunque iniziativa tu prendi che sia valida, tu avrai l'appoggio mio ma penso anche degli altri, quindi mi colpì molto quel giorno stesso, la morte di Vanoni. Ecco come la racconta lui, una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo molto spesso a caccia, avevo due cani, un bracco tedesco e un setter e cominciando all'albe finendo a sera, su e giù per i canaloni, i cani erano stanchissimi. Ritornando a casa dai contadini la prima cosa che facevamo era dar da mangiare ai cani e le veniva dato un cattino di zuppa che forse bastava per 5. Una volta vidi entrare un piccolo gattino, così magro, affamato e debole, aveva una gran paura e si avvicinò piano piano, guardò ancora i cani, fece un miagolio e appoggiò una zampina a bordo del cattino. Il bracco tedesco li dette un colpo lanciando il gattino a 3 o 4 metri con la spina dorsale rotta. Questo esempio mi fece molta impressione. Ecco, noi siamo stati il gattino per i primi anni. Un anno dopo, il 27 ottobre del 1962, fu lui, Mattei, a fare la fine del gattino quando il suo aereo fu fatto esplodere. Ecco cosa ne dice Giorgio Bocca, partigiano anche lui e cresciuto come giornalista al giorno. Che cosa era Enrico Mattei? Un avventuriero, un grande patriota, uno di quelli italiani imprendibili, indefinibili che sanno entrare in tutte le parti capaci di grandissimo charm, come di grandissimo furore, generosi, ma con una memoria di elefante per le offese subite, abili nell'usare il danaro, ma quasi senza toccarlo, sopra le parti ma capaci di usarle, cinici ma per un grande disegno. Per noi, specialmente della mia generazione, l'abbinata Mattei Vanoni è una specie di simbolo di un progresso effettivo e anche di una comprensione che i problemi economici non sono problemi tecnici, ma sono problemi politici, umani. Sempre nell'esaltazione di un razionalismo che doveva essere la risposta della modernità agli anni del fascismo che si erano appena abbandonati e dove i materiali vanno sempre d'accordo fra di loro. La scala è di granito e di legno e di equilibri incredibili. E poi i pilastri da rimo coperti da lastre di pietra e delle dolomiti, nelle quali ritrovo un fossile, il colore rosa, in un dialogo incredibile tra pietra, cemento, cemento armato lavorato con una graniglia particolare, il tutto tenuto in un modo molto tecnico dai ferri. Questo granito trentino che si chiama porfido perché assomiglia a quello imperiale, posato su una struttura di cemento armato lavorato in brutalismo. quel dialogo appassionato fra materiali naturali e materiali originari che si attribuisce solitamente a Carlo Scarpa. Gioco dei dettagli che continua qui dove i legni vengono tagliati esattamente come le basi di colonne per i decori antichi di epoca dugentesca e si riportano invece con la forma della croce con, ancora una volta, i ferri e i legni suddivisi anche qui con un gusto che sembrerebbe essere quello scarpiano e che ritrovo anche nella griglia. Ma attenzione, lui qui lavora con scarpa e nasce fra di loro quella simbiosi che ha un'origine particolarmente significativa, perché proviene tutto dalla lezione di Josef Hoffmann e dalla grande cultura dell'Austria Rational Felix. Infatti Gelner ha studiato da ragazzo proprio a scuola da Hoffmann a Vienna. Porta di bronzo in lastre rivettate, cardini che dopo 50 anni funzionano perfettamente. È una maniglia che spiega un po' il mistero, perché la stessa maniglia di bronzo che Scarpa rifarà per la tomba Brion, ma che qui ha un sapore ingegneristico che è proprio quello di Gelner, un caso di collaborazione concettuale perfetta. All'interno l'unico elemento di colore è quello dei lampadari veneziani, arancioni e verdi, colori questi della natura esterna. E come diceva Gelner, per capire se una chiesa è veramente una chiesa, basta nascondere l'altare e guardare in su, se rimane mistica è una vera chiesa. Qui gioca un ruolo fortemente poetico la leggera dissimetria che appare nel triangolo di luce e che ritrovo pure nello sfasamento del centro dei tiranti. La stessa attenzione per l'aritmia, che diventa cifra linguistica nell'armatura dei cementi, dove le tavole sono scelte appositamente diverse l'una dall'altra per generare un ritmo musicale. I banchi sono proprio Carlo Scarpa, con tutta la sua passione per l'intreccio dei legni e l'incastro. Come lo è la parte superiore, la linea di ferro che collega l'ingegneria dei plinti. In cambio la forza architettonica del cemento brutalista è di nuovo quello del Gellner, una collaborazione formidabile. Mentre Gellner ha la passione per il dettaglio ingegneristico, Scarpa ha la passione per i dettagli di finitura. Mette in dialogo una pietra rossa friulana con un'altra pietra bianca che è quella tipica di Venezia e con lo smusso come sui ponti di Venezia. Sembra già camminata prima di essere usata. Curiosità storica, questa chiesa l'altare è girato verso il pubblico prima della conclusione del concilio Vaticano II, perché a Mattei piaceva l'altare di Sant'Ambrogio a Milano che anticamente si rivolgeva al pubblico e anche se il vescovo di Berluno non era del tutto d'accordo, qui si trovò la soluzione compromissoria, che il tabernacolo era ancora conforme alla tradizione dell'apertura rivolta al pubblico con il sacerdote visto di spalle. Ma che la celebrazione poteva già essere fatta così come sarebbe stata sancita dal nuovo ordinamento liturgico. curiosa avanguardia. I tiranti del Gelmer sono perfettamente regolari e tecnici e assumono un gesto di poesia eccentrica solo nell'ultimo che va a infilarsi nella parete di fondo lasciando aperta una piccola edicola dove doveva finire una scultura. Quando si tratta di costruire e di finire l'albergo Mattei è già morto, i fondi cominciano a scarseggiare perché l'utopia non piace più così tanto a Eni e il lavoro definitivo sarà legato ad una ipotesi convinta di frugalità architettonica. Il legno sarà l'arice, allora era chiaro, oggi è scuro. Il cemento viene usato a sua volta come se fosse materiale lineo. L'incrocio fra i plinti e le colonie di sostegno è esattamente come l'incrocio dei legni, il disegno si fa ancora più ingegneristico. All'interno si articolano alcune soluzioni di grande intelligenza. La grande trave di sostegno che poggia sui doppi elementi di ferro ad H, poggia su tre travi banali di abete, leggermente distanziate da tassellini regolari e abitate l'una sull'altra con le super brugole, il tutto con una chiave di tenuta che poggia su un monaco centrale. Mentre il soffitto, molto elegante oggi, è fatto con le tavole di recupero, quelle che erano servite ad armare il cemento armato. Diverse l'una dall'altra e proprio per queste particolarmente poetiche oggi. E lo stesso gusto elegante degli equilibri lo ritrovo nel bar, con un bancone tutto ferro e legno, dove il ferro serve anche da poggiapiede e dove i seggioloni alti per il bar riprendono molte delle lezioni delicate di scarpa. L'esterno, pietra, legno, cemento armato e le coperture classiche in rame del cadore. Ogni dettaglio curato e disegnato, le stalactiti e le stalagmiti di legno comprese, il battiscope della scala in ferro, le camere frugali ma eleganti, con un unico poggiaroba di tec che consente di salire su un terrazzo sopraelevato, che permette di sopraelevare anche quello successivo e quindi di avere una luce che scende dall'alto costantemente. Ma per noi oggi sensibili all'ambiente, la parte più interessante rimane quella dei villini. Gellner ottiene da Mattei un permesso particolare d'avanguardia, quello di sotterare tutti gli impianti elettrici in modo da non avere pali che disturbano la vista del Monte Pelmo. Sono 270 circa sparse attraverso i bosco, tutte attente a non farsi notare troppo dalle altre e tutte capaci di non lordare il paesaggio come fa la costruzione della casa singola dopo attraverso tutta l'Italia. Sono costruite in un abile dialogo fra elementi prefabbricati e elementi radicati sul suolo, ma un po' come se costruite su palafitti, in modo da non coinvolgere le questioni relative alla tenuta di questo suolo, essendo tutte su un gaione. Gioca sempre a un ruolo fondamentale e decorativo il cemento brutalista, dove i cassoni di armatura sono fatti con dei leni talmente diversi l'uno dall'altro da far nascere una sorta di allegro disegno. Sono prefabbricati gli elementi di sostegno del tetto e il complesso gioca sulla forte luminosità delle grandi vetrate esterne che fanno da contrapeso alle finestrine. Attenzione, la vera architettura sta nei dettagli e qui sono nella zona patumiera. La zona patumiera aveva una sua indicazione con il numero delle ville corrispondenti e il bidone di riferimento. Il bidone di riferimento era particolarmente ben disegnato e più forte è ancora il contrasto, se lo guardiamo lui antico, rispetto ai plasticoni colorati della differenziata d'oggi. Modello più grande per dirigente di alto grado che ha diritto anche a uno spazio per l'autista. Mentre i piloni alti non sono affatto dovuti al suo grado, ma il fatto che la casa posta su un declivio vuole comunque essere a piano unico. Il modello base prevede un piccolo garage nell'ingresso. Attenzione, piccolo garage, allora l'Italia stava comprando la Fiat 600, la macchina piccola. Oggi un macchinone ci entrerebbe difficilmente e poi si sale in casa, di inverno, quando fuori fa freddo. La casa piccola, poco più di 60 metri quadri, prevede già però i due bagni uno accanto all'altro, i colori azzeccati che dialogano con il legno, le due camere da letto. Poi la camera dei genitori, letto matrimoniale, con ogni singolo dettaglio disegnato, come la testiera che si apre sulla libreria. Toilette minima, perfettamente disegnata e armani corrispondenti. Soggiorno perfettamente attrezzato, che dà su cucinotto, confortevole. Su annesso spazio living, con piccolo lettino in aggiunta, ospite inatteso. Scrivania altrettanto elegante della tua letto e della camera da letto, e ovviamente la stua. Delicati i dettagli, come li scuri intorno alle finestre interne. Pace assoluta fra i pigni e gli abeti. E così mi trovo ad aver fatto la promozione immobiliare per un appartamento definitivamente consegnato nel 1955. Dieci anni dopo la fine della guerra. Dieci anni dopo la catastrofe, quando l'Italia era convinta di poter costruire un futuro. E così mi trovo ad aver fatto la promozione immobiliare 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 Grazie a tutti.